ciao a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati a tutti quanti vi mando un grande abbraccio per seguirmi così affettosamente vi ringrazio veramente tanto anche nel privato di tutto quello che mi dite le bellissime parole io sono veramente molto contenta e ricambio il vostro affetto dal profondo del cuore vi dico grazie veramente perché nuovo per chi è la prima volta che mi ascolta un caloroso benvenuto a te ti invito a iscriverti al canale attivare la campanellina cliccando su tutte per ricevere così tutte le notifiche di quando caricherò dei video oggi continuiamo con la nostra serie delle parole magiche tratte sempre dall'autore che è cristiano tenka quindi su sua indicazione bene oggi facciamo tutto per la protezione e poi per un riequilibrio eventuale della tua energia come vedi qua sopra ci sono i miei oracoli i messaggi divini e ricordo ancora chi li vuole acquistare mi scriva me lo dica oppure segue il link che sta in descrizione con tre stese perché dopo le parole magiche che vi vado a illustrare a brevissimo farò un messaggio ok per te che deve arrivarti da un'altra dimensione quindi scegli la stesa 1 con la farfallina gialla stesa 2 farfallina azzurra stesa 3 farfallina rosa le lascio qua perché sono anche belle così da vedere vi dico subito i cristalli adatti ok ce ne sono diversi ma questi sono quelli più diciamo testati conosciuti ma informatevi anche voi è comunque sia perché ce ne sono anche diversi questi sono quelli più comuni e questo qua è il quarzo fumè lo faccio vedere il quarzo fumè comunque che è un quarzo diciamo ialino però affumicato si chiama anche affumicato o fumè e protegge proprio le energie dalle energie negative sia la persona che la casa e poi la tormalina nera la tormalina nera eccola qua sempre che protegge anche dalle negatività e protegge anche questa mettendola vicino ad apparecchi diciamo che emanano onde elettromagnetiche va bene perché le onde elettromagnetiche ci sono anche altre diciamo come la sciunghite però adesso oggi ci concentriamo principalmente sul dissimulare e far andare l'energia negativa va bene e vi spiego come vi spiego perché vi spiego come la prima che metto è quella che reputo non perché è più bella o più importante perché sono importanti tutte però è quella proprio di impatto d'effetto e queste formule ve lo dico subito ascoltatemi bene perché già lo spiego nel video e lo scriverò anche nella descrizione quindi non richiedetelo non richiedete la stessa cosa che ho già detto perché perché queste parole sono diverse se avete visto gli altri video vedevate che c'era la genesa eccetera queste sono diverse cioè queste sono come un po' diciamo il decreto io sono no quello di saint germain una buona abitudine quotidiana o quantomeno quando senti fortemente il bisogno quindi non c'è bisogno di fare il bigliettino la settimana tutte queste cose qui il foglietto la genesa ok queste sono delle buone abitudini sono delle protezioni che quando vi sentite quelle giornate che secondo voi siete sotto attacco va bene poi vi spiego è la frase scegliete quella che più vi va bene o addirittura ve le fate tutte proprio non c'è problema va bene quindi non c'è un inizio non c'è una fine non c'è una scadenza non ci sono i 21 giorni non c'è niente ascoltate bene le spiegazioni è quindi tutti i giorni per un periodo particolarmente pesante le potete fare ok adesso vi spiego un pochino la prima che in realtà sono due aspettate le recupero e sono due ma poi da indicazione sempre dell'autore si possono infine anche mettere insieme quindi abbiamo diciamo più di una parola ma messa in un'unica frase adesso vi leggo un pochino a cosa serve perché deve essere sempre molto chiaro perché perché dovete capire se è la vostra se fa per voi io dico di sì però sentiamo bene che cos'è allora praticamente è una formula per difendersi da indagini psichiche non volute ok quindi va proprio ripetuta anche ogni giorno per un tempo indeterminato quindi finché sentite che ne avete bisogno per indagini psichiche si intende la lettura del pensiero o tentativi esterni di entrare in contatto telepatico e con queste formule qua si ottiene immediatamente un risultato però non si deve abbassare la guardia lo dice lo stesso autore perché perché è una difesa limitata cioè una difesa che ti fai proprio quel momento in cui tu la reciti hai il potere di decretare questa cosa e sei protetta o protetto ok però non è che vale per sempre quindi apposta dicevo fatelo come buona abitudine specialmente in certi periodacci ok e poi insieme a questa ci mettiamo anche insieme quella per eliminare gli attacchi provocati dai ganci che sono robe tremende i ganci sono comunque delle cose che noi subiamo va bene da persone che magari non desideriamo ma continuano a pensarci e noi lo avvertiamo ok della serie che tu magari non vuoi ok non è detto che per forza amore quindi una persona che insiste e tu non la vuoi può essere qualsiasi può essere un familiare persone nel lavoro e tu senti capisci che c'è qualcosa che ti sta agganciando e ti stanno mandando questi tipi di cose bene i ganci sono come degli uncini che si possono creare quando ci sono persone ok che magari in amore non sono ricambiati quindi cerca di creare questa connessione con te ma tu non la desideri va bene sono onde vibrazionali negative e sono le forme pensiero degli altri e riescono ad agganciarci va bene oppure anche per situazioni pesanti da cui non si riesce a liberarsi questi ganci che tu senti no queste cose tu lo percepisci e quindi ti creano una disarmonia malessere a volte anche che si va a concentrare in una parte del corpo specifica specialmente se è già debole di suo questa parte tua ok quindi andiamo a tranciare tutti questi legami che non vogliamo ok ci vogliamo staccare quindi è una difesa ok inoltre si può anche usare per difendersi da una dipendenza di qualsiasi genere va bene quindi dipendenza dal fumo da droghe da comportamenti ripetuti malsani insomma tutto quello che voi reputate essere una cosa che vi sta facendo male va bene perché noi siamo anche i dottori di noi stessi lo capiamo a volte che cosa non va bene che cosa ci sta facendo del male è sottolineato proprio che queste formule sono di vitale e fondamentale importanza per la protezione giornaliera perché perché purtroppo esistono al mondo anche forze va bene forze che non sono sempre positive e che si insinuano nelle nostre menti per manipolarci controllarci e limitarci in ogni modo purtroppo ci sono queste forze che fanno anche delle gregore una forza egregorica molto potente subdola che vibra appunto ad una frequenza molto bassa va bene e diciamo che tende questa forza così questa bassa energia che si vuole insinuare in te no ti vuole trascinare praticamente nella bassa frequenza ecco perché a volte ci riesce quando tu ti senti completamente esausta o esausto no ma percepisci proprio che c'è qualcosa che c'è un'intromissione va bene quindi da cosa lo potete capire poi andiamo lo potete capire anche dal fatto che quando vi mettete ok tipo a far qualcosa per voi stessi ok un lavoro personale una connessione angelica una meditazione ok un qualcosa che vi sta facendo crescere e aumentare l'energia qualcosa vi viene a disturbare ci avete mai fatto caso le suona il telefono non so messaggio un email guarda caso proprio importante chiama questo chiama quell'altro quello lì che non si fa sentire da sei mesi guarda caso proprio adesso che stai mettendo a fare una roba importante viene a scocciare proprio in quel momento e quello che suona arriva al pacco allora guarda caso lo capite quando queste cose accadono proprio quando voi ci avete da fare questo non quando ci avete da fare qualcos'altro tipo sto cucinando sto preparando il sugo e sono il postino lì va bene io sto dicendo quando stai cercando di fare un lavoro personale ti stai mettendo veramente lì bello impegnato impegnato a fare una cosa fatta bene meditazione decreto questo quell'altro e vieni disturbata o disturbato lì si capisce si capisce ok quindi appunto per non farsi controllare la mente queste basse frequenze in inglese low frequency ok uno spirito di bassa frequenza va bene può essere anche una cosa passeggera non è detto che siamo sempre costantemente mo tutti i giorni dobbiamo stare a pensare a tutte ste cose eccetera allora per sicurezza in certi periodi siccome lo si avverte questo io consiglio e lo dice anche l'autore per un po di farlo così andiamo a sganciare tutto è infatti ci dice di aggiungere a questa appunto dicevo a queste parole alla fine da una o due diventano tre o quattro perché ci mettiamo tutti i pezzetti che dice l'autore in modo da creare una bella frase completa e così ci proteggiamo proprio è allora adesso fatemele un attimo sistemare e ve le dico per bene allora poi ve le scrivo è comunque io ve le leggo a mia velocità voi le fate come volete ve le dico tre volte in modo che si capiscono bene gli accenti e poi anche nella descrizione le trovate con la spiegazione di quello che è quella frase proprio specifica è allora partiamo quindi per difendersi da questi ganci e attacchi psichici va bene dissimulans totalium hoxtollo dissimulans totalium hoxtollo dissimulans totalium hoxtollo aggiungiamo poi a dissimulans totalium hoxtollo permanent 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 questo è per fargli avere un effetto più duraturo va bene questo si può aggiungere a tua discrezione però se tanto lo impari ti piace tutte le mattine comunque senti che lo vuoi fare puoi anche fare dissimulans totalium hoxtollo e già funziona da solo se ti senti e vuoi aggiungere anche il permanent ci metti anche permanent questa era la prima adesso andiamo sempre con delle formule di difesa sempre ricordo di cristiano tenka per chi vuole vada a vedere chi è cristiano tenka e libri che ha pubblicato eventualmente se ne acquista insomma chi vuole vedere delle informazioni su di lui e allora la sera per esempio prima di andare a dormire c'è questa bellissima formula che potrebbe anche che può anzi che può fermare tipo degli diciamo dei lavori di magia degli incantesimi negativi prima prima che colpiscono perché che cosa fa crea uno scudo protettivo per difendere proprio il tuo campo energetico da forme pensiero negative possono essere anche le tue attenzione perché a volte ci auto sabotiamo e ci facciamo del male non ci riesce a uscire dalla testa sto pensiero negativo ok quindi dobbiamo fare attenzione perché poi pensiero negativo la forma pensiero viene a diciamo a manifestarsi nella realtà e magari questa formula è buona anche se te stessa o te stesso ti stai facendo ok diciamo tra virgolette del male o comunque non riesci proprio a usci un attimo proprio sto periodo uno dice io non riesco a focalizzarmi sul positivo allora puoi fare questa cosa la sera prima di andare a dormire pulizia reddo pulizia reddo pulizia reddo andiamo avanti la mattina invece quando vi alzate potete creare una diciamo una bolla protettiva uno schermo una schermatura intorno a voi va bene e blocca proprio le proiezioni psichiche degli altri va bene verso di voi quelle negative chiaramente le invidie pettegolezzi le critiche tutte queste cose qua vi alzate o prima di uscire comunque dalla porta di casa vi proteggete con questa cosa campana tegumentum campana tegumentum campana tegumentum poi andiamo diciamo per eliminare ma l'occhio questi tipi di fascinazioni va bene quelle cose un pochino più proprio leggere l'autore dice anche fatture ora proviamo lo stesso perché magari sono cose subdole fatte da anche no da se stessi tanti no acquistano online purtroppo si può acquistare di tutto uno solo mette a fare a casa si improvvisa mago maga eccetera fa ste robe qua no ecco proviamo qui dice togliere fatture malocchi comunque sia il malocchio sicuro oltre che ci sono anche altri metodi però anche la frase ha la sua importanza va bene infatti c'è proprio la parola fascinazione in questa formula no quindi è questo cercare sempre agganciata all'altra frase ecco perché ve le metto insieme perché hanno un comune denominatore è agganciato al discorso ganci psichici va bene quindi la frase questa proprio per togliere queste negatività va bene dalle persone e dice così repente fascinazione tollo repente fascinazione tollo repente fascinazione tollo poi dopo questo mi rivolgo adesso a tutte le persone anche che magari lavorano col pubblico e che subiscono tipo non so un sacco di energie durante il giorno incontrate no magari avete un negozio oppure avete un'azienda no siete al desk siete al front office di qualcosa quindi dovete fare le accoglienze insomma quello che è la vostra occupazione va bene potete essere anche un rappresentante quindi comunque incontrare tante persone qualsiasi cosa basta che la clausola insomma per questa frase che comunque ci sia il pubblico quindi dove c'è il pubblico e quindi tu ti senti magari a fine giornata spremuta ok come fanno i vampiri energetici no che ci portano via le energie proprio puoi recitare questa frase per proprio eliminare tutte le negatività che hai assimilato durante il giorno quindi è uno scarico eh ed è questa Beneficam auram tollo et sanitatem corporis et animi restituo Beneficam auram tollo et sanitatem corporis et animi restituo Beneficam auram tollo et sanitatem corporis et animi restituo Ok questa magari era un pochino più lunga però insomma ne vale la pena eh prendete bene mi raccomando dalla descrizione anche o fate lo screenshot vedete voi insomma Adesso andiamo con l'equilibrio delle energie le ultime quindi adesso ci riequilibriamo abbiamo tolto abbiamo fatto protezione scudo adesso riequilibriamo le nostre energie Quindi proprio il campo energetico tuo va bene per ripristinare una situazione di normalità sia che sei entrata in contatto con forti energie negative o comunque sia quando ti senti che hai una bassa energia anche se non sei entrata in contatto con nessuno eh Quindi si dice questo per equilibrare proprio il campo energetico Equabilitatem roboris corporis refero Equabilitatem roboris corporis refero Equabilitatem roboris corporis refero Adesso l'ultima per rimettere in circolo proprio le energie bloccate ok riequilibrare nel corpo proprio l'armonia di tutte le energie vi ricordo che le frasi possono essere fatte tutte eh non è che sono troppe le potete fare pure 100 al giorno eh Allora quindi per rimettere in circolo per rimettere in circolo per rimettere in circolo energie bloccate ed equilibrarle nel corpo La frase è questa Virum motum melioro Virum motum melioro Virum motum melioro Virum motum melioro Quindi questo riporta proprio l'armonia eh Allora ci sono delle frasi Come dicevo le prime specialmente che ho messo che andrebbero recitate tutti i giorni va bene perlomeno per quel periodo a data da destinarsi come dice anche l'autore per quel periodaccio lì va bene e lì non c'è bisogno tre cinque volte al giorno lì andate eh fate andate recitate Non senza insomma tutto da destinarsi lì ok poi ci sono invece le altre come queste da usare al momento va bene non è che qui c'è Allora se volete fare dalle tre le cinque volte al giorno fatele cioè non è che fanno comunque male non fanno male queste cose Però ci sono delle frasi più o meno adatte a farle tre cinque volte al giorno sentite anche no il vostro io ascoltatevi anche voi non seguite solo le istruzioni da manuale basta no perché anche questo Bisogna fare no questo canale vuol promuovere proprio la insomma il tuo lavoro che tu riesci a capire senza bisogno di maestri Ok qui diamo le informazioni io do le informazioni ma poi il lavoro cerca di assimilarlo così tanto Che diventi tu il maestro di te stesso questo è che deve accadere va bene quindi allora Soprattutto quelle di protezione direi tutti i giorni io le farei no perlomeno per quel periodo lì dopo magari che ne so aumentare l'energia queste cose qua Le pulizie che vi ho detto adesso no proprio anche così che fai da sola o da solo quello vedi tu quando serve la fai Se la vuoi fare tre volte al giorno la fai cioè qui bisogna un po regolarsi Nessuno può sapere se a te ti serve tre volte cinque volte o se quel periodo non ti serve lo senti tu E questo l'importante Allora adesso andiamo con il messaggio per te partiamo Con la prima Che per chi ha scelto quindi la stellina gialla Cosa ti vogliono dire qua Il messaggio per te stellina Farfallina scusatemi La farfallina gialla vediamo un po Per la farfallina gialla Anzi la metto qui La farfallina bella Eccola qua Vediamo un po La fortuna è dalla tua parte Continua così Perché stai facendo bene 447 477 Mantieni i tuoi pensieri focalizzati Questi ripeto me lo chiedete sempre ma Sono dei numeri che comunque hanno a che fare con la frase qua che c'è scritta no Però sono anche dei numeri che potrebbero anche apparirti in giro E quindi dirti che sei sulla buona strada Sono tutti segnali questi Il 4 e il 7 se li vedi spesso Oppure potrebbero essere la tua data di nascita E quindi ti stanno dicendo proprio sei tu Va bene O qualcosa che ti ricorda Qualcosa di familiare no Quindi qua c'è proprio la fortuna Qui chi sta ascoltando magari che ha scelto la prima È proprio nella buona strada E stai facendo bene ti dicono Quindi qua continua a mantenere i tuoi pensieri focalizzati Probabilmente abbiamo anche qualcuno che lavora proprio su questa cosa Su tante cose Magari decreti Parole magiche Lavoro personale eccetera Meditazioni Perché qua dice che stai facendo bene Quindi se stai facendo bene devi fare quelle robe lì Cioè nel senso Uno più uno fa due Se stai così bene O comunque la fortuna è dalla tua parte Comunque vuol dire che stai facendo un percorso positivo Quindi tutto quello che stai recitando Facendo le tue buone pratiche che stai facendo Ti dicono che vanno bene Ok Quindi qua farfallina gialla il messaggio era questo Adesso proseguiamo con la seconda che era l'azzurra E vediamo Per l'azzurra Che messaggio c'è Per l'azzurra La magia divina ti sta aprendo nuove opportunità 777 Sono le parole chiave Ok Di questo mio oracolo Perciò Qui c'è un risultato anche che sta per arrivare E a cui non avresti mai proprio neanche dato Che ne so Un soldo di fiducia Ok Qua cose molto importanti in arrivo Quindi nuove opportunità Farfallina azzurra Teniti pronta O pronto eh Vediamo il messaggio per la farfallina Rosa Vediamo un po' per chi ha scelto la farfallina rosa Che messaggio c'è per chi ha scelto la farfallina rosa Il messaggio per chi ha scelto la farfallina rosa Periodo di transizione Lascia andare il passato e tutto quello che non ti serve più 225 Vai avanti con coraggio Qua c'è una fase di pulizia in qualcuno eh Una fase di crescita Quindi non ti preoccupare se a volte riemergono Perché così funziona con le energie Quando andiamo a ripulire a volte riemergono le cose sporche Va bene? Quelle negative Quelle che fanno soffrire Ma fa parte Perché è comunque un riemergere Va bene? Per fare che cosa? Per elaborarlo Riviverlo Va bene? Tanto una sofferenza in più Non è che ci ammazza adesso una sofferenza in più Anche se ne abbiamo passate tante Però se serve questa sofferenza in più Per finalmente lasciarla andare per sempre Va bene? In questo caso il per sempre va bene Perché qui andiamo ad eliminare Perciò quando andiamo ad eliminare Quello che ci ha fatto comunque star male O che pensiamo di aver superato Ma in realtà non l'abbiamo superato affatto L'abbiamo solo accantonato in una parte di noi Ok? Qua non vi preoccupate Perché il periodo è transitorio Quindi se riemergono durante le vostre Diciamo meditazioni O quando fate le pulizie personali No? Vi concentrate sull'energia E riemergono delle cose Non molto belle Non vi preoccupate Le rivivete Lasciatele andare Perché molti stanno rilasciando Anche tanto tanto karma In questa fase ascensionale In cui ci troviamo Il karma viene proprio Siamo aiutati proprio A renderlo un pochino migliore Ancora è meglio Se state facendo comunque Il decrito Insieme all'arcangelo Rasiel Anche meglio Quindi qua Tutto quello che non serve più Va bene? Mandarlo via Transizione È solamente un momento Quindi vai avanti con coraggio Perché sicuramente Se vai avanti così Tutto quello che devi lasciare andare Lo lascerai andare E arriverà per te Quello che finalmente magari ti meriti Va bene? Allora Io vi ringrazio tantissimo Per questo Diciamo Contenuto informativo di oggi Sempre E comunque interattivo Le stese sono valide per tutti Quindi Leggetevi un po' di info Su di me Su questo canale Va bene? Su chi sono Su che contenuti propone Guardate anche la lista Delle playlist Chi vuol parlare con me Per una consulenza Proprio fatta A misura su di lui O su di lei Mi scriva All'email che vede In sovraimpressione O comunque cliccate Per seguirmi anche Nei social E cliccate nella descrizione Del video Sotto il video Va bene? Io per il momento Vi mando un grandissimo abbraccio Vi ringrazio sempre Di essere così affettosi Qui su Quinta Dimensione Letture E vi aspetto presto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti